Ciao a tutti. Questo mese ho la revisione di una delle mie auto e quindi sto facendo i soliti controlli di routine che faccio ogni volta prima di portarle in revisione. Ma da quest'anno c'è una novità. Hanno aggiunto il controllo degli errori in centralina. Adesso non ricordo bene quando è entrata in vigore questa nuova regola, ma è da meno di due anni perché l'ultima revisione che ho fatto questo controllo non c'era. In pratica, oltre ai soliti controlli che hanno sempre fatto, controlli di frenata, usura pneumatici, fari eccetera, andranno a collegare anche un computer alla presa di agnosi dell'auto e verificheranno se ci sono errori in centralina. Ovviamente quando l'errore è grave ci si accede su un cruscotto la spiede a vario motore, ma ci sono anche tanti piccoli errori che non fanno accendere questa spia. E quindi per essere sicuri che sia tutto a posto, la cosa migliore è dotarci di uno scanner OBD2, cioè un oggetto come questo. Questo che vi faccio vedere oggi me l'ha inviato TopDon ed è il più piccolo della loro gamma. Lo trovate su Amazon a una cinquantina di euro, vi lascio il link qua sotto in descrizione. Come oggetto è semplicissimo, in pratica si inserisce nella presa di agnosi dell'auto, si collega al cellulare in bluetooth e tramite l'applicazione si fanno tutte le verifiche. È talmente semplice che come manuale di istruzioni abbiamo solo questo fogliettino che in pratica ci fa solo vedere qual è l'app da scaricare, come collegarlo, il fatto che dobbiamo accendere il quadro e basta. E poi tutto il resto viene rimandato all'app che installeremo sul telefono. Quindi per prima cosa vediamo come installare l'app. Vi metto il video qui al centro. L'installazione è molto semplice, andiamo sul Play Store, la scarichiamo, dobbiamo registrarci con un indirizzo email, l'indirizzo deve essere valido perché ci inviano un codice di verifica e a quel punto possiamo iniziare a utilizzarla. Per provare l'app dobbiamo connetterci al dispositivo. Il dispositivo deve essere alimentato e quindi dobbiamo per forza inserirlo in macchina. Nella Panda la presa di agnosi rimane qua, dietro lo sportello sotto al volante. Inseriamo il dispositivo. S'accendono due led. A questo punto possiamo andare sull'app. Associamo il dispositivo. Come sempre diamo tutti i vari permessi di cui siamo abituati. A questo punto possiamo iniziare. Giriamo il quadro e direi che possiamo iniziare facendo il controllo completo dello stato del veicolo. Questo dispositivo nasce per uso, diciamo, personale e quindi ci permette di selezionare tre marchi di veicoli. Io scelgo Fiat perché devo fare la Panda scelgo solo Fiat e mi scarica il software specifico per questa marca. Questa procedura è abbastanza normale ormai per tutti gli scanner visto che ogni auto ha le sue, diciamo, regole. Qui ci vogliono un paio di minuti quindi vi faccio saltare l'attesa. Non l'hai riuscita a leggere il numero di taglio della macchina ma su questa macchina mi succede praticamente sempre perché probabilmente è un po' vecchiotta e quindi devo sempre darglielo a mano. Allora, ho 1200 ottovalvole. qui adesso va a fare la scansione di tutte le possibili centraline che possono essere nella macchina quindi cerca di comunicare anche con delle centraline che di fatto dentro a questa macchina non ci sono infatti scrive non esiste, non esiste, non esiste per esempio quella sotto a quella che sta facendo adesso iniezione, magneti marelli, bla bla, GPL è quella che ci sono sui veicoli B-Fuel questa è un semplice benzina e quindi questa centralina non ce l'ha non capisco perché non escludono a priori alcuni tipi di centraline se io ho selezionato 1200 ottovalvole e non nel modello B-Fuel non vedo perché lo scanner deve andare a cercare la centrale del GPL però è una cosa che ho visto su molti scanner probabilmente c'è un motivo per cui lo vanno a fare o forse è più semplice andare a provare tutte così non devono crearsi un database con tutte le possibili combinazioni di tutte le auto allora qui abbiamo un errore che non me lo aspettavo luce di posizione guasta o mancante ed effettivamente è vero me ne ero dimenticato ho la posizione anteriore destra che è bruciata da parecchio tempo minicript richiesta di codice non ricevuta intermittente e questo invece potrebbe essere un errore della codifica delle chiavi che ogni tanto mi si accende la spia sul cruscotto devo dire che sono stupito perché ho recensito altri scanner in passato se mi seguite sul canale e li avrete visti anche ben più costosi di questo e nessuno mi aveva mai trovato errori di questo tipo quindi interessante ora questi che ha trovato sono errori minori e non penso che influiscano con la procedura di revisione ora va bene la lampadina guasta sì perché ovviamente attestando i fari se ne sarebbero accorti ma l'altro della codifica delle chiavi penso che non gli interessi minimamente usciamo dalla scansione automatica e voglio vedere cos'altro c'è quest'app è un po' fastidiosa perché chiede conferma 18 volte per ogni cosa allora vediamo un po' ispezione motore ok il motore non presenta codici d'errore perfetto vediamo cos'altro c'è test della batteria inizia il test allora dice di spegnere tutti i sistemi e avviare il veicolo proviamo ok 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 Interessante Se accelero Allora molto bello perché ci fa il grafico come i classici tester per le batterie però lo fa utilizzando i dati che legge la centralina quindi abbiamo il tempo totale d'avviamento quant'era la tensione della batteria prima dell'avviamento di quanto è scesa durante l'avviamento e poi a quanto è arrivata quando il motore è partito e quindi praticamente quanto sta caricando l'alternatore H U D non so cosa sia No Cioè proietta i dati sul parabrezza? Non ci credo Capito Boh proviamo a mettere questo per esempio Ah praticamente mette l'illuminazione al massimo Allora proviamo a far così Spegniamo tutto Ah però ovviamente così non si vede niente Non esce più Come si esce di qua? Penso di aver fatto del casino Rientriamo in carpalla Ok Questo non lo sto a provare perché tanto non ce ne frega niente Questo in pratica mette l'illuminazione del telefono al massimo Noi appoggiamo il telefono sul cruscotto L'immagine viene riflessa sul parabrezza e quindi vediamo i dati sul vetro Però a me non interessa Vediamo cos'è questo controllo dello smog Protocollo di lettura Chissà cosa significa Mi chiedo come possa controllare lo smog Ah ok Praticamente va a fare Un sotto insieme di check Di quelli che abbiamo visto prima Di solo Dei soli componenti che riguardano la parte Dell'inquinamento Quindi perdita di colpi del motore La sonda lambda EGR nel caso dei diesel eccetera E ci dice se è tutto a posto E abbiamo passato anche questo Testa delle performance invece Immagino che sia Una prova di accelerazione Esatto Quindi praticamente ci fa fare una partenza da fermi E ci fa vedere quanto tempo ci mettiamo Ad arrivare a una certa velocità In questo momento questa cosa qua non mi interessa Non so perché mi fa aspettare così tanto Allora direi che spengo il quadro della macchina Torniamo alla home Direi che Quello che mi interessava L'ho visto Cos'altro abbiamo Servizio Allora una cosa che volevo verificare È Nelle impostazioni Se abbiamo anche altre lingue Allora qua siamo già in italiano Come lingue direi che ne ha abbastanza Lasciamo italiano Mi sembra anche tradotta abbastanza bene Invece Le unità di misura Le voglio metriche Perché se no abbiamo Miglia Libre E altra roba Incomprensibile Ok Allora come prodottino Direi niente male Allora lo stacchiamo E facciamo un attimo Un paio di riflessioni Come prodotto funziona Sicuramente molto bene L'app mi ha trovato Degli errori che Su quest'auto Che è quella che uso sempre Per testare questo tipo di prodotti Nessun altro scanner Mi aveva mai trovato E quindi Decisamente voto positivo Forse chiede un po' troppe volte Conferma E quindi diventa un po' Noiosa Da utilizzare Però è anche vero Che l'utilizzo Per cui è nato Questo prodotto È un utilizzo Diciamo per uso personale Quindi dedicato a persone Che non sono Del mestiere E quindi forse Ci può anche stare Che chieda conferma Più volte Alla fine se ne facciamo Un uso sporadico Anche se dobbiamo fare Qualche click in più Ci cambia poco Il discorso sarebbe diverso Se fosse per un uso Diciamo professionale Dove Andiamo a utilizzare Il prodotto Più volte Nell'arco della giornata E quindi risparmiare Qualche click Alla fine può fare la differenza Oltre alla normale diagnosi Ha anche sei servizi Di manutenzione Quindi ha il reset Del Quindi ha il reset Del cambio olio Quello dei freni Il ripristino del TPMS Quello della pressione Dei pneumatici La rigenerazione Del DPF Il ripristino del BMS Che si usa nell'auto moderne Quando si va a cambiare La batteria Quindi se noi Cambiamo la batteria Della macchina Dobbiamo Notificarlo in centralina E poi La regolazione Dell'acceleratore Per gli acceleratori elettronici L'unica cosa Che non mi piace tanto Di prodotti come questo È il fatto che Richiedono un abbonamento Cioè Questo prodotto Costa 50 euro L'app la possiamo usare Per un anno E ci permette Di fare la scansione Su tre marche Diverse Che direi Che sono più che sufficienti Per un utilizzo Hobbistico Infatti Se andiamo a vedere Nella gestione Dei dispositivi Io vedo qui Che Ho selezionato Una sola marca Fiat Mi dice che ne posso mettere Altre due E mi dice che Questo pacchetto Fiat È valido Fino Il 3 novembre 2025 Cioè Un anno Arrivati a questa scadenza L'applicazione Smette di funzionare E per sbloccare il software Dovrò pagare L'abbonamento Che dovrebbe essere Di circa 30 euro All'anno Sicuramente Una cifra accessibile Rispetto Ad altri scanner Che a volte Hanno abbonamenti Molto Molto Costosi Ma comunque Bisogna tenerne conto Direi che per questo video Chiudiamo qui Spero che vi possa Tornare utile Vi ricordo che Qua sotto in descrizione Trovate il link Per acquistare questo prodotto Vi ricordo che Se volete supportare il canale Potete farlo Condividendo questo video Mettendo un like Lasciando un commento Qua sotto E se non l'avete ancora fatto Iscrivendovi al canale Grazie a tutti Al prossimo video Grazie a tutti